...sia di stagessia, di spensi, ma anche di... che può essere aromatizzata anche con gli ecumeli... qualcosa di... scegliere innanzitutto se lavora a base d'acqua o a base d'acqua. Ricordatevi che con l'acqua si esprime tutto la parte aromatica. A base d'acqua il latte è un tampone aromatico. Questo vuol dire che la Roma non si esprime, ma viene rotondata in fazione. Si toglie il 30% la parte romana. Per me è vero che la cosa va a riuscire? Tu? Dovete andare, se potete eh!